Musica Salve amici appassionati Football Manager qui con voi come sempre c'è Mike94 ovviamente Football Manager Italia siamo qui ovviamente con Football Manager 2015 per continuare la serie consigli di inizio carriera oggi siamo qui con la Juventus mi è stata chiesta da molti di voi e devo dire che sarà un consiglio di inizio carriera molto molto semplice visto che la Juve è anche un po' diverso dal solito ora vi spiego il perché perché in pratica come ben sapete tutti la Juve è una squadra fortissima non gli manca quasi nulla e a parte forse un difensore o al massimo un centrocampista e quindi che cosa ho pensato? ho detto vabbè andiamo a cercare semmai qualche giovane per il futuro per un po' fra virgolette svecchiare la rosa fra qualche anno però ragazzi che cosa sono andato a vedere? sono andato a vedere l'Under 20 e l'Under 20 è piena zeppa di giocatori fortissimi e giovani che appunto potranno poi in futuro svecchiare la vostra rosa per farvi un esempio in porta abbiamo Emil Audeuro che ve lo consiglio sempre ed è davvero veramente diventerà un ottimo ottimo portiere ci avete Berardi per sostituire che ne so Tevez per farvi un esempio poi dipenderà anche molto da voi come giocherete in difesa ci sarà Rugani o Romagnoli o Romagnoli giusto? no Filippo Romagna scusate Romagnoli è della Samp e Romagna quindi ci sono un casino di giocatori Vitali Prince Russini che è un altro ottimo giocatore tutti questi qui diventeranno veramente forti quindi che cosa andremo a fare? vi consiglierò 2-3 giocatori già giovani e pronti per la rosa insomma ma giocatori comunque abbastanza noti che non c'ho nemmeno ragionato su mi sono subito venuti in mente e li ho segnalati più un paio di giocatori no un solo giocatore giovanissimo che però già vi ho consigliato nel precedente episodio per la fascia visto che l'unica cosa che non ho trovato tanto nell'Under 20 della Juve è un giocatore di fascia forte perché poi ci abbiamo prima punta ci abbiamo seconde punte ci abbiamo difensori centrali a gogo ci abbiamo centrocampisti centrali come Sturaro che è davvero fortissimo però non abbiamo effettivamente un laterale buono e giovane e andiamo vi farò vedere anche vi consiglierò anche un laterale forte italiano se no poi vabbè ci sono tanti altri nomi che vi posso consigliare e poi 2 giocatori in prestito che potrete prendere in prestito per quest'anno visto che comunque poi l'anno prossimo ci sarà appunto il ritorno di mi dimentico sempre i nomi porca pupazza Rugani in difesa quindi veramente ottimo si farà quest'anno a M poi se non erro e ritornerà più forte che mai e io lo lo userei già come panchinaro poi vabbè c'è il ritorno di Sturaro a centro campo e poi ragazzi io vi consiglio fortemente di prendere riscattare Gabbiadini cioè o meglio non riscattare di comprare la metà di Gabbiadini perché è un fenomeno veramente fortissimo qua sono 2 stelle e mezzo vabbè ma anche la Juve però ragazzi veramente è un giocatore che consigliano tutti e lo state vedendo anche nella realtà con Napoli è veramente fenomenale però partiamo dallo staff lo staff è immenso ci sono veramente ottimi ottimi membri oltime persone e non c'è quasi nulla da segnalare vi consiglio semmai di mandar via Delfini che è il fisioterapista più scarso insomma vi risparmiate qualche dindino e poi Geria che è un altro un osservatore che non è scarso però veramente ne avete a bizzeffe e lui effettivamente è quello meno capace ma per una squadra di media classifica è già il top quindi semmai vi consiglio di rescindere a lui anche perché ha pure il contratto in scadenza quindi sti cazzi non spendete veramente niente per quanto concerne l'allenamento vi faccio vedere che ovviamente già avete ottimi preparatori però se dovete impostare il vostro allenatore all'inizio vi consiglio di mettere tutto a bomba sulla tattica così io non l'ho messo però vi consiglio di mettere a bomba sulla tattica così non dovete nemmeno spendere altri soldi per un altro preparatore e niente ragazzi vi parlo un po' della rosa anche se è ovvio sono ovvio un po' le scelte dell'under 20 già abbiamo parlato ci sono veramente un casino di giocatori veramente tanto tanto forti della rosa che vi posso dire Buffon Buffon ovviamente almeno altri 3-4 anni ad alti livelli lui vuole arrivare fino ai 40 anni vuole almeno per quanto ha dichiarato vuole arrivare fino al mondiale del 2018 lo vuole anche giocare si spera per lui e quindi io vi consiglio di rinnovare il contratto Storari ragazzi a me Storari è sempre piaciuto come portiere anche quando ha giocato nel Milan quando giocava ha sempre fatto oneste partite io anche a lui rinnoverei almeno di 1-2 anni il contratto poi ripeto ci avete già in casa sostituti come Emil Laudero oppure anche Bracescu se non erro se lo trovo qui è un po' più scarso però Bracescu però tutti molti ne parlano bene comunque in pratica il principale è Emil Laudero poi vabbè Rubinio io lo cederei subito perché non prende niente come contratto però ragazzi veramente sono soldi inutili quindi vendetelo oppure scendete il contratto che è veramente un giocatore inutile poi ripeto ci avete Laudero come come terzo portiere ecco Rich Steiner in scadenza e io rinnoverei il contratto ovviamente lo conosciamo tutti davvero forte vi dico un'altra assurdità rinnoverei il contratto a Motta vi spiego il perché perché cercherei ovviamente di fargli abbassare parecchio le pretese quindi circa 7-800 mila euro e perché ragazzi come ultima scelta come laterale secondo me può essere buono insomma secondo me è un onesto panchinaro visto che può giocare su tutte e due le fasce può giocare sia se decide di giocare con la difesa a 4 che con la difesa a 3 quindi secondo me è un ottimo ottimo panchinaro diciamo ottima ultima scelta Caseres ovviamente ottimo lo terrei può giocare veramente dappertutto e bra idem con patate sta giocando abbastanza bene anche qui è bello forte e quindi lo terrei tutta la vita Chiellini un altro buon giocatore ottimo giocatore Bonucci ugualmente insomma se vi arrivano offerte di 40-50 milioni io le accetterei perché ci sono veramente tanti difensori forti che potete prendere sui 10 milioni e dopo ve ne faccio vedere uno che però già conoscete e comunque vi consiglio anche lui di tenerlo è fortissimo Barzagli ancora di più titolarissimo chi cederei Ogbonna me l'aspettavo un po' più forte invece è abbastanza Scarsetto e cioè Scarsetto per la Juve non è questo talento inaudito e io lo cederei mi farei quei 5-6 milioni che schifo non fanno per Filippo Romagna all'inizio avevo pensato di mandarlo in prestito però ragazzi già abbiamo un casino di di giocatori via in prestito quindi io lo terrei lo farei giocare in under 20 tanto comunque hanno un bel calendario in under 20 in under 18 insomma dove vi pare e ovviamente gli farei fare fare da Chioccia a Chiellini a Filippo Romagna così vi diventerà veramente un signor difensore e secondo me in qualche partita così un po' più inutile diciamo che ne so le partite iniziali di Coppa Italia che sono contro Serie B o comunque insomma partite con squadre un po' più scarse io lo farei quasi giocare perché secondo me è un buon già un buon giocatore però ovviamente De Grisce visto che ha solo 17 anni potrei dire eresie però in questo caso con la Juventus vi direi cioè vi sto dicendo quello che farei io in pratica poi ognuno ha le proprie scelte insomma Padoin era un po' indeciso però a 30 anni prendo un bel un milioncino e mezzo e lo cederei volentieri insomma non mi fa impazzire Romulo per quest'anno lo terrei assolutamente però non lo riscatterei perché chiedono 6 milioni e 7 è assurda come cifra per un 28enne che non è scarso è un ottimo giocatore però niente di più ecco non gli vale tutti quei soldi per me e poi fate quello che vi pare a Samoa di solito vi arriva anche una bella offerta di 30-35 milioni c'è anche un sostituto possibile che poi ve lo consiglierò ovviamente però io vi consiglio di tenerlo perché può giocare a centrocampo come mediano come laterale sinistro veramente un ottimo giocatore veloce forte fisicamente forte tecnicamente io prima di cederlo ci penserei 2-3 mila volte pirlo vabbè non c'è nulla da dire Claudio Marchisio l'ho messo come panchinaro anche per lui se vi arriva un'offerta di 40-50 milioni ci penserei su però per il momento tenetelo ecco per Eira per Eira per riscattarlo ci vogliono 17 milioni ma è scadenza quindi lo potete prendere a parametro zero può giocare veramente dappertutto come laterale come centrocampista come trequartista quindi veramente tenetevelo Luca Marrone 24 anni invece a me non piace era una speranza della Juve non credo che ci punti ancora almeno io fossi in voi non ci punterei perché oramai può crescere ma non credo nemmeno di troppo poi quante ha 2 stelle e mezzo non lo so non mi convince tanto io lo cederei non lo metterei mai come difensore perché ha colpi di testa 10 come mediano ma per una squadra scarsa insomma di media classifica e nemmeno Bidal ragazzi che potete fare idem con patate per Boba Pepe invece ragazzi non è scarsissimo lo stavamo prendendo anche lo Spezia l'anno scorso però perché non l'abbiamo preso per questo fattore qui integrità fisica 1 all'integrità fisica che è Adriano l'imperatore sinceramente per quanto ha determinazione 18 impegno 20 e tante altre belle coraggio 19 aggresità 20 e tante altre belle statistiche ma si prende 2 milioni e 4 e si spacca più di di tutti veramente all'integrità fisica ridicola quindi io lo cederei subito Coman la Juve lo manda sempre via in prestito ma io quasi quasi lo terrei farei sempre da chioccia a te da tevez insomma secondo me come panchinaro può essere molto utile ovviamente tevez ragazzi galiani si stanno ancora mangiando le mani e non solo giovinco invece che vi dico su giovinco che ha il contatto di scadenza sappiamo tutti che è andato al canada piglia più di 8 milioni all'anno beato lui che c'è da dire io gli rinnoverei il contratto però di solito chiede 5-6 milioni se ne chiede 3 ok se no vafancu detto molto papale papale a bo liorente è un altro fortissimo bocaie boachie come cacchio si pronuncia invece me lo terrei anzi lo riscatterei cioè prenderei la metà dall'Atalanta perché secondo me può essere una valida alternativa a liorente e a morata stesso che è infortunato però lo terrei insomma proprio ieri ne parlavo di morata non a voi ma fra amici e mi hanno detto eh ma quello non è ultimamente non sta a giocare cioè non ha iniziato benissimo la sua avventura alla Juve proprio ieri ha segnato contro il Milan e va buh ci sta detto questo ragazzi allora che la la tattica cioè veramente con la Juve potete giocare come vi pare io l'ho impostata come Conte in pratica ho la difesa a tre con due laterali il centrocampo ovviamente a tre Pirlo Pogba Vidal Tevez e liorente ma potete anche giocare col 4 1 2 3 insomma come lo Spezia o col 4 2 3 1 mettendo Pogba o Vidal qua in pratica no più Pogba e Pirlo qui insomma veramente come vi pare ovviamente non Barzai qui ma ci mettete che ne so Pereira Giovinco Barzai eh Barzai no Coman veramente ci avete le alternative potete giocare come vi pare io vi faccio vedere la formazione di Conte però ripeto potete giocare così mettendo Buffon Evra Chiellini Bonucci Steiner Pirlo Pogba Vidal Tevez Giovinco Leorente potete giocare appunto col 4 2 3 1 oppure potete giocare con la formazione di Conte ovviamente al posto di Giovinco ci mettete Barzai giocare con Buffon Chiellini Barzai Bonucci Evra Tevez Lichsteiner Pirlo Vidal Pogba eh scusate Tevez qui Pirlo qui Pogba Vidal Tevez Leorente e in panca Storali Caseres Asamoah che può giocare sia a centrocampo che come laterale sinistro Marchisio Pereira Giovinco Morata Motta che può sostituire Lichsteiner Romulo che può sostituire Lichsteiner Coman Bocaillet che cosa ci serve un centrocampista che semmai possa anche giocare come laterale è un difensore centrale per sostituire Ogbon però che vi ho consigliato all'inizio vi darò nomi di solo i 5 giocatori 2 fortissimi che li potete comprare usando i circa 20 milioni che avrete però lì poi non potrete più riscattare Gabbiadini o Berardi se non vi arrivano poi altri soldi insomma oppure vi consiglio di prendere 2 giocatori in prestito 2 giocatori in prestito abbastanza decenti insomma molti di voi mi uccideranno per quelli che vi proporrò ma ve li consiglio comunque perché li ho provate e sono entrambi forti questi due in prestito e aspettare poi l'anno prossimo il ritorno di Sturaro e Rugani e anche poi la crescita di Romagna e quindi poi finisce questo prestito e rimarrete con loro cioè ritorneranno dal prestito loro e appunto avrete già una rosa completa e bella che è fatta allora andiamo a vedere un po' di paura di far vedere che immagino gli insulti allora ragazzi c'è anche Zuniga fra le le cessioni però 8 milioni non mi ricordo se chiede 8 milioni vediamo un po' quanto chiedono vediamo in diretta non mi ricordo 8 milioni non lo prenderei mai Zuniga per 8 milioni la metà forse comunque chi vi consiglio di comprare è ovviamente Balanta e Per che può giocare come difensore centrale quindi a posto di Ogbonna e Lucas Romero ovviamente al posto di nessuno c'è un centrocampista che può giocare anche come laterale destro e quindi ragazzi stareste a posto così però spendereste tutti i soldi che avete e poi in futuro levereste lo spazio a giocatori fortissimi che già avete appunto c'è Rugani se vuoi prendere Balanta in futuro Rugani non avrà spazio per questo io ho pensato al massimo di prendere Felipe Santana in prestito per quest'anno a posto di Ogbonna e poi l'anno prossimo ritornerà come si chiama Rugani e Romagna sarà anche cresciuto perché Santana perché il prestito vi verrà a costare circa 2 milioni di ingaggio e basta quindi non è poco ma non è nemmeno tanto però voi se lo state lo state vedendo con lo Schalke Santana è un ottimo ottimo difensore è veloce ha un ottimo colpo di testa veramente è una macchina da gol ci avrà fatto sì e no 5 gol da noi veramente è un ottimo difensore è un metro e 94 elevazione 19 coraggio determinazione impegno poi le valutazioni di difensore sono ottime quindi secondo me in una difesa 3 può giocare benissimo voi appunto lo state vedendo nello Schalke nella difesa la nostra attrice sta giocando un amore e quindi io lo prenderei in prestito insomma non credo nemmeno lo comprerei perché di ingaggio potrebbe chiedervi un bel po' però in prestito lo prenderei e poi appunto l'anno prossimo prenderei Rugani che ritorna dall'Empoli oppure lo comprate lo spendete se no 2 milioni e mezzo e l'ingaggio circa 2-3 milioni però ripeto il prestito secondo me è più vantaggioso come centrocampista laterale sempre controllando fra i prestiti e la lista da sferimento c'è Flamini Flamini che nel Milan ha fatto schifo però nell'Arsenal ha sempre fatto un gran bene può giocare come potete ben vedere come laterale come centrocampista centrale a me mi è sempre piaciuto perché è un giocatore abbastanza veloce mi è piaciuto non nella realtà nel Milan ma che ne so ai giochi tipo PES mi è sempre piaciuto perché è abbastanza veloce è un giocatore abbastanza buono con i piedi comunque a passaggi 13 tiri da lontano 12 cross 11 quindi appunto come laterale nemmeno sfigurerebbe ed è comunque un buon mediano poi impegno 16 coraggio 17 determinazione 14 e la stessa cosa poi di Sant'Ana il prestito vi verrebbe a costare solo 2 milioni di ingaggio cioè non lo paghereste tutto ma solo il 60% 60-70% e quindi questi due sono i giocatori che vi consiglio di prendere in prestito se non comprate Romero e Balanta e volete in futuro riscattare che ne so Berardi o Gabbiadini e come laterale quello che manca poi nell'Under 20 della Juve almeno quello che ho potuto riscontrare io vi consiglio di prendere Di Marco che già ve l'ho consigliato nel con Roma e Napoli però ragazzi questo cresce davvero bene lo prendete con due spicci o lui o anche Mattias Romero del Boca Junior poi vabbè ce ne sono tanti ragazzi se volete spendere di più c'è Desciglio che tipo 12 milioni lo prendete Darmian ce ne sono di giocatori che potete prendere però ripeto visto che abbiamo già tanti giovani forti da noi vi consiglio di prendere lui a pochi spicci e poi semmai di scattare Gabbiadini o Berardi insomma uno dei due questi sono i miei consigli insomma quello che farei io diciamo che con un buon allenatore la Juve cioè un buon allenatore in Football Manager intendo se voi siete bravi secondo me la Juve potrebbe anche giocarsela per la Champions se lo dico se giocate intelligentemente ce la potete fare anche perché oramai c'è la rosa titolare è quella io non farei grandi modifiche anche perché poi effettivamente i soldi non ce l'avete abbiamo solamente 10 milioni di budget trasferimenti quindi non possiamo manco far follie ho detto che ne abbiamo 20 se riuscirete poi a cedere effettivamente quei giocatori se ci riuscite secondo me riuscirete a prendere Lucas Romero e Balanta ma ripeto non sono necessari perché ci sono questi due che secondo me possono fare ugualmente la differenza ripeto molti di voi non saranno d'accordo ma io vi dico quello che farei io in pratica prenderei questi due e Amen poi giocherei in pratica come giocava Conte e già era un'ottima squadra insomma da migliorare solo l'Europa ma secondo me ce la potrebbe fare insomma soprattutto se crescono quei giovani giovinotti lì perché se giocate con l'attacca a tre manca effettivamente un laterale perché giovinco si è bravin cioè bravo ma non è da insomma da da squadra che vuole lottare per la Champions quindi che ne so provare Gabbiadini Berardi o se no poi tutt'altri giocatori ce ne sono tantissimi li sapete meglio di me questi sono i miei consigli qualsiasi cosa chiedete nei commenti e niente ragazzi come sempre spero che il video vi sia piaciuto e un saluto da Mec94 e ovviamente Football Manager d'Italia ciao ragazzi